Allora, passiamo alla top 5, i 5 giocatori migliori di questa edizione della zona Puntila League Premiato Mario Napolitano dell'Olimpo della Birra Dai Mario, facciamo un applauso, dai altri facciamo un applauso Mario Napolitano, miglior portiere, è la top 5 della zona Puntila League Altro giocatore che entra nella top 5, sempre dell'Olimpo della Birra, una questione di famiglia, Davide Napolitano E dopo Mario Napolitano Anzi, Davide Napolitano e Mario Napolitano, il terzo giocatore, entra nella top 5 Fa parte della squadra, amici di Zio, eliminata in semifinale Si tratta di Mario Tiberi Un applauso anche a Mario Gli ultimi due giocatori della top 5 sono anche i campioni di questa edizione Li chiamiamo insieme, dice il buon Pucherino Scala Sono Luca Rogato e Riccardo Ciocca di Carrozzeria, appiccionato Bonpanno Adesso direi di passare alla scuola, appiccionato Bonpanno Adesso direi di passare alla scuola, appiccionato Bonpanno La squadra seconda classificata perché poi tanto gli altri due coppe sono per Bonpanno Seconda classificata, iniziate alzarvi in piedi ragazzi perché andate al banco della premiazione Si tratta naturalmente di Olimpo della Birra Sconfitta con un'ora in questa finalissima Un applauso Tutto fair play da parte di Bonpanno Agli avversari di Olimpo della Birra Sconfitti 3 a 2 Nella finalissima seconda classificata Olimpo della Birra che aveva finito al terzo posto il campionato La regular season con 44 punti Aveva finito dietro agli amici di Zio, 46 Adesso dopo le foto di Vito possiamo passare a coloro che hanno fatto incette di premi in questa edizione della zona puntina Liga Hanno vinto il campionato, la regular season con 49 punti più 3 dagli amici di Zio, secondo in classifica E quindi si aggiudicano anche la Coppa per la vittoria del campionato Ma soprattutto hanno vinto la finalissima della zona puntina Liga 2012 Si tratta dei ragazzi di carrozzeria artigianato Bonpanno Campioni dell'edizione 2012 Ecco la formazione di Bonpanno che ha vinto questa finalissima In porta il numero 1 Armando Laurora Poi Luca Fusco, Francesco Zofrea, Emanuele Farelli, Paolo Corbucci, Riccardo Ciocca, Luca Rocato e Sergio Antonelli Sono loro i campioni della zona puntina Liga 2012 Rilanciano la sfida anche per l'edizione estiva che comincerà a breve L'appuntamento anche per il campionato invernale l'anno prossimo Grandi sorprese da parte di Boccherino Intralotto Stefano Scala, l'organizzatore di questa edizione, di tutte le edizioni di zona puntina L'organizzatore di questa edizione, di tutte le edizione, di tutte le edizione, di tutte le edizione L'organizzatore di questa edizione, di tutte le edizione, di tutte le edizione, di tutte le edizione, di tutte le edizione